Un altro bar confiscato alla Camorra è stato restituito alla collettività a Battipaglia. Si tratta del dolce caffè che l'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati ha assegnato al Comune. L'immobile di 137 metri quadri fino al 2013 era di proprietà di una società riconducibile a Piero Lazzaro Cavallo, un battipagliese ritenuto vicino al clan Pecoraro Renna. Ne era stata disposta la confisca cinque anni fa su richiesta della procura da parte della Corte di Appello e i carabinieri della compagnia di Battipaglia misero allora i sigilli al bar in parco delle Magnolie. Adesso il dolce caffè è dei cittadini insieme a un piccolo locale di 26 metri quadri al civico 335 di Via Rosaiemma. L'architetto comunale Angelo Mira, responsabile dell'ufficio che si occupa dei Beni Confiscati, ha preparato un fascicolo che verrà discusso in sede del prossimo Consiglio Comunale in cui si deciderà il destino dell'immobile.